Con 12 anni di anticipo, Marche Multiservizi raggiunge l'obiettivo europeo sul tasso di riciclo complessivo della raccolta differenziata. Un tasso che si attesta al 66% raggiunto nel 2022 rispetto alla soglia del 65% fissata da Bruxelles per il 2035. E' questo uno dei tanti dati emersi dalla presentazione del decimo report sulle tracce dei rifiuti quest'anno eccezionalmente divulgato da Marche Multiservizi in una scuola, ovvero l'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro. Raggiunto il primo traguardo europeo, Marche Multiservizi scrutta già il secondo, quello relativo al tasso di riciclo di imballaggi fissato al 65% per il 2025, quando Marche Multiservizi si attesta già al 60%. Dati confortanti che partono da una raccolta differenziata che nei 38 comuni pesaresi serviti dall'azienda ha raggiunto il 73,5% di raccolta differenziata di cui l'87% avviato a recupero. Parto subito dalla percentuale della raccolta differenziata che vede la provincia di Piusurvino al primo posto nelle province marchigiane, sopravvanzando di qualche decimo anche la provincia di Macerata che è stata per anni al primo posto. Quindi abbiamo superato il 73,80% che è un dato molto lusinghiero. Oggi verranno presentati i dati invece di quelli che sono l'effettivo recupero e il riciclaggio delle materie che vengono raccolte, che è un dato anch'esso molto importante. In questi numeri abbiamo raggiunto quelli che sono gli obiettivi europei del 65% nel 2035, raggiungendo il 66% di tasso di recupero dei materiali, quindi siamo in ottima posizione e siamo in una buona posizione anche per raggiungere l'ulteriore e molto ambizioso percentuale del tasso di recupero degli imballaggi, anch'esso fissato al 65%, dove oggi siamo al 60% ma confidiamo di poterlo raggiungere. Marche Multiservizi ha illustrato agli studenti del Cecchi quantità e qualità di riciclo e recupero dei rifiuti differenziati oltre alla loro destinazione. Dal 100% del riciclo del legno raccolto ha i dati che si attestano superiori al 90% per il riciclo di verde, carta, metalli, vetro e ferro. L'organico recuperato si attesta all'89% del raccolto, recuperato anche il 62% della plastica con un incremento del 22% rispetto all'anno precedente. Numeri anche convertibili in benefici in bolletta, commisurabili ad esempio in 31 euro per una famiglia di tre persone risedenti in un appartamento di circa 80 metri quadrati. Questo è il luogo naturale dove fare questa conferenza stampa perché da tempo noi ci occupiamo di ambiente e di sostenibilità. Un'agricoltura sostenibile a mio avviso è alla base della nostra società, di una società che vuole futuro perché senza sostenibilità probabilmente e quindi senza rispetto delle risorse, senza risparmio delle risorse non avremo neanche futuro per le nostre generazioni.